Dalla mezzanotte del primo gennaio sono attivi nel comune di Ischia i quattro autovelox fissi installati sulla cosiddetta sopraelevata e su via Baldassarre-Cossa. Nel primo caso il limite di velocità è fissato sui 50 km orari, mentre nel secondo caso il limite massimo è di 40 km orari, come su gran parte dell'anello stradale principale dell'isola di Ischia. Nei giorni di preesercizio, in cui la Polizia Municipale ha potuto constatare il funzionamento degli impianti, sono stati registrati numeri di infrazioni molto elevati. Su via Baldassarre-Cossa erano stati rilevati 83 passaggi, oltre il limite consentito, nella giornata del 27 dicembre, poi crescendo nei giorni successivi, probabilmente perché ha presa la notizia dell'attivazione a partire dal primo gennaio, con 137 veicoli beccati oltre il limite consentito il 28 dicembre, 256 il 29 dicembre, 315 il 30 dicembre e ben 352 il 31 dicembre. Nelle stesse giornate sulla cosiddetta sopraelevata, il 98 erano oltre il limite consentito il 27 dicembre, 171 il 28 dicembre, 170 il 29 dicembre, 175 il 30 dicembre e 180 il 31 dicembre. In questi casi però non è scattata alcuna sanzione, poiché come annunciato si trattava di una fase sperimentale. A partire dalla mezzanotte del primo gennaio poi sono scattate le prime infrazioni e i numeri sono tutt'altro che confortanti, per quanto di molto inferiori ai giorni di sperimentazione. Su via Baldassarre-Cossa ben 198 veicoli hanno superato il limite di velocità. Di questi 198, la maggior parte, 112, viaggiavano comunque sotto i 50 chilometri orari. 67 veicoli erano tra i 50 e i 60 chilometri orari, mentre ben 18 viaggiavano con una velocità tra i 60 e i 70 chilometri orari e una persona tra i 70 e gli 80 chilometri orari. Numeri più contenuti invece sulla sopraelevata nella giornata del primo gennaio sono state 78 le sanzioni elevate, 31 per una velocità compresa tra i 55 e i 60 chilometri orari, 35 per velocità compresa tra i 60 e i 70 chilometri orari, 8 tra i 70 e gli 80 e ben 4 oltre gli 80 chilometri orari. Per chi supera di non oltre 10 chilometri orari il limite previsto, la sanzione minima è di appena 42 euro. Se il superamento del limite però è tra i 10 e non oltre i 40 chilometri orari in più, la sanzione minima è di 173 euro più 3 punti scalati dalla patente. Per limiti oltrepassati di oltre 40 chilometri e non oltre i 60, la sanzione minima è invece di 544 euro con 6 punti dalla patente più la sospensione della stessa da 1 a 3 mesi. E infine la pena massima per limiti superati di oltre 60 chilometri orari rispetto al consentito, la sanzione minima parte da 847 euro, 10 punti sottratti dalla patente e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Le sanzioni amministrative pecuniarie tra l'altro sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa di notte, in particolare dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Sui social è intervenuto il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino commentando i primi dati sulle rilevazioni degli autovelox. I numeri del primo giorno di attivazione degli autovelox, dice il sindaco, ci dicono che c'è ancora tanto da fare per migliorare l'educazione stradale della nostra comunità. Nei giorni di sperimentazione, continua il primo cittadino, gli isolani hanno preferito accelerare perché avevamo in maniera responsabile e trasparente avvisato che l'attivazione sarebbe scattata dal 1 gennaio. In quei quattro giorni, a partire dal 27 dicembre, sui quattro autovelox abbiamo registrato mille veicoli oltre il limite su via Baldassare-Cossa e 794 sulla sopraelevata con velocità pazzesche anche oltre i 100 km orari. Dal 1 gennaio è andata meglio, sottolinea il primo cittadino, ma i numeri sono ancora troppo elevati. 198 sanzioni su via Baldassare-Cossa e 78 sulla sopraelevata solo il 1 gennaio. Ci sono i segnali stradali, non gli avvisi, c'è la comunicazione, tuona Enzo Ferrandino. Non è più accettabile viaggiare a queste velocità sulle nostre strade se non vogliamo piangere altri morti. Il cambiamento deve iniziare dalla nostra quotidianità. Chi non è disposto ad essere parte del cambiamento, conclude il sindaco, dovrà fare i conti con le sanzioni e con i punti della patente. Grazie.